Ecco, il mese di maggio, andiamo a iniziare il mese di maggio, che è il mese della Madonna, quindi è una bella tradizione nella vita della Chiesa, nelle nostre comunità anche parrocchiali. I nostri paesi hanno quasi tutti un santuario dedicato alla Madonna, o comunque hanno nelle proprie chiese o statue o immagini, eccetera. Dentro il tempo pasquale, questo resta sempre un fatto un pochettino così da chiarire, se mai c'è da chiarire, il fatto che la Chiesa si dedichi e le nostre comunità dedichino molta attenzione alla figura della Madonna, e lo facciano proprio dentro il tempo della Pasqua. Qualcuno qui raddrizza un po' le orecchie e dice, ma come? Durante il tempo pasquale, che è celebrazione del Cristo risorto, che è un percorso che deve farci entrare nel mistero fondante della nostra fede, che ci deve preparare alla Pentecoste, il dono dello Spirito Santo del Cristo risorto, eccetera, ci perdiamo un momentino e andiamo quasi fuori strada pensando un po' e celebrando la Madonna. Ecco, Don Riccardo, credo che potremmo un momentino chiarire se questo mese di maggio che è nella tradizione può starci dentro bene nel tempo pasquale. Senz'altro quando nel corso della vita della Chiesa si è cominciato a celebrare anche i cosiddetti mesi dedicati alla Madonna, come il mese di maggio, risente sicuramente di un tempo in cui la liturgia era diventata una cosa un po' esclusiva dei celebranti, quindi dei preti, dei monaci per lo più, e la gente rimaneva un po' tagliata fuori. E allora, siccome si sentiva anche l'esigenza di fare in modo che la gente potesse assumere anche un po' un certo stile, una dimensione anche celebrativa, ecco che magari si sono appiccicati, per così dire, alla liturgia ufficiale anche dei momenti più legati alla devozione. Il mese di maggio la Madonna, ma il mese di novembre i morti, il mese di ottobre ancora il Rosario, il mese di marzo che era dedicato a San Giuseppe, ecco per dire un po' come ogni mese aveva una sua connotazione. Per fortuna siamo in tempi in cui la liturgia è ritornata ad essere fonte e culmine della vita, della Chiesa, insomma, nella liturgia non ci sentiamo più degli spettatori che rimangono quasi assenti al di fuori di tutto ciò che avviene. Però mi piace pensare come alcuni usi che magari sono entrati un po' quasi dalla finestra, nell'uso della Chiesa, però appunto abbiano resistito bene e si siano anche integrati con una visione, se vogliamo, anche più matura, più serena della liturgia. Quindi il mese di maggio, che è caro, credo, a tante delle nostre comunità, tanta della nostra gente, diventa proprio l'occasione per guardare alla Madre di Dio, ma non facendone, permettimi, una dea quasi staccata un po' da tutto il resto, ma vedere la Madre di Dio come colei che ci dona il Figlio. Ecco, vengono in mente tante immagini che appartengono anche alle nostre Chiese, anche al Medioevo, che si è immaginata la scena dell'incontro tra il Risorto e Maria, Madre del Signore. I Vangeli non ce lo dicono, però la tradizione popolare ha detto ma figurati se il Risorto che è apparso agli Apostoli, che si è fatto vedere ai suoi, non ha incontrato anche Maria, sua madre, come colei che è la vera discepola, la vera Apostola. Ecco, mi piace allora pensare al mese di maggio come questo incontro tra la Madre e il Figlio Risorto e la Madre che ci indica il Figlio Risorto come colui che è motivo della nostra salvezza. Tra l'altro, e questo il Libro degli Atti degli Apostoli ce lo dice, insieme con gli Apostoli stessi in attesa dello Spirito Santo c'era anche la Madonna, per cui credo veramente che il percorso pasquale con gli Apostoli in attesa dello Spirito l'ha vissuto allora Maria Santissima, non prendendo il primo posto ma facendosi serva di questi Apostoli di Gesù Cristo perché si preparassero bene a questo gesto, penso che possa starci bene anche per noi. Mese di maggio quindi che le comunità nostre cercheranno di vivere, messa nei quartieri, rosario presso alcuni luoghi significativi, il racconto anche delle storie dei vari santuari, tra l'altro quest'anno il centenario delle apparizioni a Fatima e così via. Quindi mettiamo un po' tutto nelle mani di Maria Santissima, Madre di Cristo e Madre Nostra e mettiamo nelle mani della Madonna anche il cammino di questo mese che si connota in gran parte nelle nostre comunità anche come tempo di celebrazione dei sacramenti. Anche questo ecco diremmo, precisiamo un attimo Don Riccardo, il fatto che i sacramenti, una buona parte o alcuni dei sacramenti vengono celebrati proprio nel tempo pasquale direi che è altamente significativo per carità. I sacramenti van bene tutto l'anno, però forse questo tempo connota meglio anche il senso dei gesti sacramentali che la Chiesa a nome di Gesù Cristo celebra. Mi viene in mente un particolare che appartiene alla liturgia. Quando, anche tu Don Leone, il giorno dell'Epifania, ora hai fatto l'annuncio delle feste, perché all'Epifania si può fare anche questo, quindi si dà l'annuncio delle date così che costellano l'anno liturgico che è appena partito con l'anno nuovo. Dopo che si è dato l'annuncio della Pasqua, sappiamo bene che la Pasqua è una data mobile perché è la prima domenica successiva al primo plenilunio di primavera, si dice un'espressione, dalla Pasqua scaturiscono tutti i giorni santi e poi via tutto l'elenco delle altre feste mobili e poi anche delle feste mariani e dei santi. Ecco, questa idea, dalla Pasqua scaturiscono tutti i giorni santi, non solo dell'anno liturgico ma anche i giorni santi della nostra vita. I giorni santi che sono i momenti speciali in cui incontriamo il Signore attraverso i sacramenti, quindi ci sta bene la celebrazione delle cresime, ci sta bene la celebrazione della messa di prima comunione che speriamo non sia prima e unica comunione ma sia l'inizio di una vita di fede sempre più convinta, ci sta bene magari la celebrazione degli anniversari di matrimonio. Si sa, ognuno si sposa un po' nella stagione che ha scelto, bisognerebbe evitare almeno la Quaresima e l'Avvento ma oggi forse non è più così neanche quello. Dalla Pasqua scaturiscono i giorni santi che è la celebrazione dell'ordine, pensiamo anche ai preti novelli che saranno ordinati tra poche settimane, quindi con particolare amicizia anche per la comunità di Erdesio che accoglie Don Marco, sacerdote novello. Ecco, questa idea che appunto i sacramenti sono la continuazione della presenza del Signore che come risorto opera nella nostra vita. Quale tempo migliore se non il tempo di Pasqua? Momenti belli per le comunità, momenti belli per le famiglie, momenti belli per le persone. Non vorrei partire proprio col fatto di dire però dopo succede così, cosa, ma le cose magari non vengono. Cominciamo dal bello, cominciamo veramente dalla gioia di queste occasioni. Mi ricordo sempre il mio organista di Sant'Anna, veniva tutte le domeniche a suonare però quando c'erano le prime comunioni veramente entusiasta, illuminato e tutte le volte diceva questa Don Leone è la festa più bella di tutto l'anno. Lei mi potrà dire della Pasqua, del Natale eccetera e appunto come abbiamo appena detto è quello che celebriamo anche nei sacramenti e frutto della Pasqua ma questo è il momento più bello per la nostra parrocchia. Don Riccardo, resta però sempre insieme con la bellezza di questi momenti eccetera forse più in noi parroci o in chi collabora direttamente, catechisti eccetera, un po' l'interrogativo quello che tu già un po' accennavi. Il rischio che le messe di prima comunione siano anche le messe non dell'ultima per carità comunione ma di comunioni che si fanno sempre più rare. Il rischio che il sacramento della crisima, va un po' di moda a dire così, però rende l'idea sia addirittura il sacramento, qualcuno dice dell'arrivederci dei nostri ragazzi, qualcuno peggio ancora dice dell'addio. Beh, onestamente dobbiamo anche porci, mentre ci rallegriamo di questi momenti stupendi porci anche questi interrogativi, questi dubbi che in effetti trovano purtroppo spesso anche riscontro nella realtà pastorale delle nostre comunità. È vero, ogni tanto cadono un po' le braccia, cadono le braccia perché ci si rende conto che dentro comunque la bella cornice è anche comunitaria, diciamolo pure in maniera serena che la celebrazione della messa di prima comunione suscita ancora nelle nostre comunità il rischio che rimanga un po' una bella realtà, però un pochino una piccola bomboniera collocata lì così che alla fine appunto la metti nell'album delle fotografie, la tieni un po' come ricordo ma poi non incide concretamente nella tua vita c'è. Ecco io dico che credo che non sia colpa tra virgolette dei bambini. I bambini anzi sanno manifestare ancora una grande freschezza e una disponibilità anche nei confronti dell'universo religioso, forse è proprio connaturato con il loro essere bambini, essere molto più spontanei anche nei confronti del Signore, meno ingessati da quella fredda razionalità che in noi persone più adulte a volte ci blocca un po'. Però ecco sicuramente dietro c'è una comunità adulta che dice tutta la sua fatica nel credere. Qualcuni giorni fa parlavo con una persona che se ne esce con quell'espressione io sono credente ma non praticante. Io forzando un po' il discorso dico credente. Se tu credessi davvero che nell'eucarestia ci sta dentro il Signore, trovi il Signore vivo allora non avrebbe neanche senso dire non sono praticante. Perché se ci credi veramente che lì c'è il Signore allora è naturale il desiderio di andare da Lui. Non puoi far finta di niente. Allora riconosci tranquillamente che non sei neanche credente o comunque che la tua fede, il tuo essere credente è qualcosa di talmente fragile, talmente disincarnato anche dalla concretezza del Sacramento che alla fine è una fede un pochino vaga, un po' fumosa. Forse alla fine questa fatica dice la grande fatica del mondo adulto nell'aprirsi un po' a questa dimensione di fede. In effetti il mese di maggio che parla dei sacramenti, adesso poi patrimoni eccetera vengono, se vengono celebrati, quando per carità vengono celebrati nell'arco di tutto l'anno e in tutti i giorni dell'anno. Però in effetti porta un pochettino anche a questa domanda. Noi stiamo andando a celebrare ancora con la gran parte della nostra gente i sacramenti dell'iniziazione cristiana, battesimo, carestia, cresima e anche matrimoni se vogliamo. Però il rischio è un pochettino che proprio questa carenza o fiacchezza un pochettino nella fede stia inducendo anche qualcosa che potrebbe far prevedere qualcosa di meno buono. Il fatto per esempio che ci sono anche famiglie di cosiddetti credenti non praticanti o giù di lì che non fanno battezzare i figli perché no s'arrangeranno loro quando crescono. Il pensiero per esempio, ma questo è abbastanza comune, tanti nostri genitori che vengono a chiedere il battesimo per i propri figli e loro non sono sposati, neanche in comune ma neanche in chiesa. Ecco la domanda che ci poniamo, i sacramenti per i figli e non i sacramenti per i genitori, per gli adulti o addirittura il rischio un pochettino ormai di pensare che i sacramenti siano cose superate. Non sono più neanche casi troppo rari e il rischio anche qui che si cominci a creare una cultura del disimpegno anche nei riguardi dei sacramenti stessi. È una delle contraddizioni del nostro tempo. Ecco, penso che sia comprensibile alla luce di quanto dicevi tu, la reazione di quelli, magari anche alcuni sacerdoti, che dicono di fronte a questo slavarsi sempre di più anche dell'esperienza religiosa, dobbiamo smetterla con un cristianesimo, dicevo anche ai genitori dei sacramenti che ho incontrato nei giorni scorsi, di truppa. Quindi terza elementare, quarta elementare, tutti la prima comunione, prima, seconda media, tutti la cresima. Ecco, lasciar perdere un po' questa dimensione di cristianesimo sociale che non esiste più e magari offrire dei cammini che aiutano la consapevolezza dei piccoli ma anche delle famiglie in quello che è il sacramento e poi arrivare alla celebrazione. Ecco, d'altra parte anche questo modo di pensare, che pure è legittimo, però tradisce un pochino anche la fiducia forse nella forza dei sacramenti, che ci dice la tradizione della Chiesa, con quella formulazione latina, no, che è diventata quasi proverbiale, agiscono ex opera e operato, quindi indipendentemente anche da quella che è la tua disposizione o anche dalla disposizione di chi celebra, proprio per il fatto stesso che il sacramento venga celebrato a una sua valenza. Ecco, se ci pensiamo, i fratelli cristiani ortodossi sentono di più questa dimensione, se pensiamo che loro ai bambini che vengono presentati per il battesimo, già da subito amministrano battesimo, cresimo e eucarestia, quindi lasciando poi che sia il cammino di ciascuno a riscoprire ciò che è avvenuto. Ecco, forse si sbaglia a essere troppo rigidi, perché vuol dire non riconoscere la grazia del Signore, però d'altra parte noi cattolici mettiamo in evidenza anche quello che deve essere l'impegno di ciascuno. Ecco, non ho risposto per carità la tua domanda Don Leone, è un problema aperto ma che deve interrogare un pochino tutti quelli che hanno a cuore l'esperienza di fede. Viene in mente un pochettino quella parabola di Gesù del seminatore, è chiaro che il seminatore è il Signore, il seme è la sua grazia, è la sua parola che ha in se stessa la forza per portare frutto. Resta vero anche che il seme va seminato e deve trovare anche un terreno adatto e buono e che deve essere coltivato altrimenti il seme che cade sull'asfalto rischia di non produrre nessun frutto anche se è buono in se stesso. E qui in effetti ci sono questi due elementi, da una parte e rischiamo di non crederci forse troppo, che è lo Spirito Santo che opera, che il Signore è capace magari in tempi che non sono i nostri, quindi dobbiamo dare fiducia un po' anche al Signore e alla forza del suo Spirito che nei sacramenti comunque portano quello che giova alla nostra vita e saprà incamminarci. Questo dobbiamo riaffermarlo, perché altrimenti rischiamo di fare anche dei sacramenti, delle azioni che sono nostre e quindi devono funzionare secondo dei meccanismi aziendali nostri. Il mistero di Dio è al di là di tutte le nostre forme aziendalistiche anche nel modo di intendere i sacramenti. Il Signore è capace di operare, il Signore è capace di arrivare a tempo opportuno anche nel segreto delle coscienze. Resta vero però Riccardo che il terreno dobbiamo coltivarlo noi. Allora anche le nostre parrocchie si chiedono ma bisognerà fare qualcosa di diverso? Bisognerà prolungare la preparazione? Rischieremo di stancare di più e otterremo il contrario di quello che vorremmo da una pastorale un po' più impegnata che chieda veramente un po' più di consapevolezza ai genitori soprattutto, ma anche ai ragazzi quando sono chiamati in causa per i sacramenti. Non lo so, ecco, tu sei giovane e quindi dovrai dare delle prospettive diverse anche alla pastorale in vista dei sacramenti. Quindi cominci a pensarci e magari ci hai già pensato. Ero giovane anche io vent'anni fa, si va avanti e si cammina con quello che si può fare. Ecco, hai ragione, sono tutti i problemi che credo dobbiamo prendere in mano con attenzione, però dico anche che c'è il rischio, siccome purtroppo forse siamo anche in un periodo in cui il vertice, penso soprattutto anche alla Chiesa italiana, non ci sta dando dei grandi aiuti da questo punto di vista. E quindi si lascia un po' troppo libera la sperimentazione, quindi c'è il parroco A che pensa di essere illuminato, magari anche illuminato e prevede certi tipi di cammino che però magari cozzano con la pratica pastorale della parrocchia accanto e quindi anche i genitori dicono, ma come succede? Questo fa così, questo fa così, allora ognuno fa un po' quello che vuole. Questo per dire che forse in questa realtà dovremmo avere anche la forza, e qui magari spetterebbe un po' anche all'Episcopato italiano, di trovarsi e dare un pochino anche qualche attenzione, qualche strategia, qualche sentiero, qualche cammino che coraggiosamente bisogna cominciare a percorrere, altrimenti si rischia proprio davvero che ci siano tante cose che però alla fine non vadano neanche a incidere un pochino nel profondo della vita delle persone. Bene allora, ci auguriamo appunto che sia un bel mese questo maggio, torno a Maria Santissima sotto il suo sguardo e la sua intercessione, diamo l'augurio ovviamente a tutte quelle famiglie che celebreranno per i figli o per gli adulti eccetera i sacramenti della Chiesa che poi sono sacramenti della grazia e della forza del Signore per noi. Godiamoci, diremmo e ripetiamocelo, il bello di questi momenti, cercando di non farne semplicemente un fatto estetico, un fatto esteriore, cercando di condividere anche queste preoccupazioni pastorali, cercando di pensare ecco che l'opera del Signore non la si può raccogliere così a qualche modo, ma l'opera del Signore va presa in considerazione, va apprezzata e se vogliamo che fruttifichi nella nostra vita va anche un pochettino presa con quella serietà che ovviamente si merita. Grazie Don Riccardo, l'augurio anche a te di un buon mese di maggio, l'augurio anche a voi che ci avete seguito anche per questa domenica come siamo soliti augurarvi. Buona domenica.